Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny 2 con il nostro appuntamento settimanale dedicato a Xur e l'analisi di quello che venderà. L'arma esotica di questa settimana sarà il cannone a trazione, ve lo dico già, è un'arma soltanto per divertimento, non avrà una sua effettiva utilità. È un fucile a pompa, quindi una power weapon, danno da vuoto, il suo effetto è quello di sparare via i nemici che colpite, infatti quando li colpirete comunque da vicino i nemici verranno lanciati via, ovviamente escludendo eventuali boss o i nemici più importanti, questi ultimi non saranno afflitti da questo effetto. Comunque come vi dicevo è un'arma principalmente per divertimento, ci sono tantissimi fucili a pompa ma in generale power weapon migliori, la si utilizza anche nel crogiolo solo per divertimento, se volete cambiare un po' se volete divertirvi fa il caso vostro, se no evitate tranquillamente di acquistarla. Per la classe del cacciatore venderà radar zuccone, un casco esotico ripreso direttamente dal primo destiny, il cui perc intrinseco sarà sensore potenziato, fornisce il radar quando si mira al bersaglio, quindi con una qualsiasi arma, quando mirate avete il radar attivo. E nonostante questo effetto sia abbastanza inutile nel PVE, in generale nel PVE soprattutto quando si mira, il radar non ha tutta questa utilità ma nel PVP è un pezzo d'armatura molto importante e il suo effetto, l'avere il radar sempre attivo farà molto spesso la differenza, più di quanto possiate credere. Quindi ve ne consiglio l'acquisto. Per la classe del titano venderà il mezzo da guerra Actium. Il perc intrinseco sarà giunto autoricaricante, ricarica costantemente una parte dei colpi del fucile automatico equipaggiato dalle munizioni di riserva. Un pezzo d'armatura che si sfrutta molto con quei fucili automatici con dei caricatori comunque tanto capienti, come ad esempio Giaffari Sporchi, che rappresenta perfettamente come poter sfruttare al massimo questo pezzo d'armatura. Di fatto però è molto limitato, infatti soltanto i fucili automatici e non è così tanto indispensabile. In genere i fucili automatici sono abbinati a un buon tempo di ricarica. Motivo per cui se non per esempio in quelle attività come ad esempio il ride con Kalus, dove torna comodo il ricaricare meno frequentemente, vi sconsiglio questo pezzo d'armatura. Infine giungiamo allo stregone dove troviamo i passi trasversivi. Il perc intrinseco sarà strano rapportatore. Scattare aumenta la velocità di movimento e ricarica automaticamente le armi energetiche. La velocità di movimento aumentata è molto comoda sia nel PVP che nel PVE. Quanto al secondo effetto, è limitato soltanto alle armi energetiche, questo è vero, ma di fatto ce ne sono molte ottime, come ad esempio il dono di Uriel, giusto per citarne una delle più famose. Motivo per cui anche se non è assolutamente uno dei migliori pezzi d'armatura per lo stregone, è comunque un pezzo d'armatura accettabile. Come al solito poi Xur venderà i 3 Diori e l'engramma predestinato. Dunque ragazzi, per quanto riguarda lo Xur di questa settimana è tutto. Come al solito vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!